ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi ho ricevuto un regalo da parte della mia ragazza e ho voluto fare un unboxing allora da rumore presumo che sia un gioco di playstation 4 e la mia ragazza me l'ha fatto diciamo in prossimità dei miei mille iscritti mi ha fatto questo regalo che adesso andremo a scattare insieme perché io sono molto molto curioso e quindi adesso andrò a vedere che cos'è questo regalo ragazzi è nulla devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso sono rimasto abbastanza sorpreso quindi adesso scarteremo insieme questo regalo e vedremo che cos'è allora andiamo a scattare questo regalo un po impedito io ho i pacchettini però apriamo piano 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 giusto per fare un po di suspense ragazzi no no vabbè io apro come mi viene perché so come i ragazzini quindi automaticamente so frenetico infatti soli proprio con frenesia ragazzi e quindi niente presente i ragazzini quando avrò nei regali di natale è uguale su io è uguale sono io ho spaccato tutto qui però va bene lo stesso va bene lo stesso alla fine lo scopo è è come presumevo ragazzi è un gioco per playstation è un gioco per playstation e adesso adesso dobbiamo vedere dobbiamo vediamo un po che giochino è lo vediamo tutto subito un po alla volta raga vediamo un po alla volta va scopriamolo un po alla volta vediamo che ma che c'è lo scoccio pure qua qui allora ambiti quindi lo vediamo un po alla volta studiamo un po alla volta la via colina alla volta vediamo un po ragazzi ragazzi vedo un 4 vedo vedo un 4 vedo 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 natan drake ragazzi ragazzuoli un charted 4 un charted 4 con la bellezza di la bellezza di oggi che giorno è 6 con la bellezza di quattro giorni di anticipo sul day one quattro giorni tre giorni di anticipo sul day one e adesso ragazzi vado ad aprirlo vedremo le mani ragazzi vedremo le mani so come un bimbo cioè vi dico solo questo so sta contento un grazione a alla mia ragazza che mi ha regalato sta cosa e non riesco ad aprirlo non riesco ad aprirlo raga sto impedito come eccolo qui dai abbiamo aperto ma veramente ragà metteremo le mani metteremo le mani proprio come i bimbi io un charted 4 che pensavo di comprare eccolo qui un charted 4 ragazzi ecco il cd ecco il cd e dentro abbiamo anche pezzo di cazzo ma niente pensavo che ci fosse qualche codice qualcosa di speciale qualcosa di però niente ragazzi non porterò questo un charted 4 sul canale per il momento fino al day one perché ho paura che succeda non so cosa però comunque non porterò sul canale un charted 4 però sapete che dal 10 dal day one ci sarà un charted sul mio canale ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti